Emilio, ti ricordi quando ci siamo incontrati la prima volta in una casa svizzera, linda e l'ursa di Cilio e di Tentino? Di genna sera stavamo abbracciati in un letto e una sola piazza e poi tanti decenni di cose fatte insieme, di ressenze, di viaggi lunghi e brevi. Tu partivi, io partivi. Ci mandavamo cartugine fino all'incontro successivo e a un certo punto sei partito per un viaggio più lungo. Un posto dove non ci sono, un ufficio costale per mandare cartugine o negozi per comprare le cari. Ma i pensieri arrivano lo stesso. Chi ti ripeti come io sono? Sarebbe contento, mi sembrerebbe fatto male. Forse se usassi per l'occhio sotto le arena a palpe giuse ti vedrei arrivare da te con gli occhi e sempre vedi con un sorriso abituoso e divertito. Lo scherzo che hai fatto di non mandare l'attenzione. Non c'è niente di buio e di definitivo. E' questo tuo essere assente. Il mio non è un aspettare, ma il mio non la perdita o un'oragine. Io pure non ci sentiamo. Perché sei. Sei dentro tante cose. Parole, immagini, idee, sentimenti, aspirazioni, stimoli, movimenti. Perché sei, sei dentro tante cose. Grazie. 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 Grazie.